In collegamento telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile di Meteosette.it per conoscere le previsioni previste per questo nuovo fine settimana. Giuseppe, prima di scendere nel dettaglio vogliamo partire come sempre dalla situazione attuale del tempo. La nostra regione continua ad essere interessata da un flusso di correnti fredde di origine polare che determinano condizioni di tempo a chiara connotazione invernale. Aria fredda che nelle prossime ore causerà un'ulteriore diminuzione delle temperature con episodi di instabilità sul settore più orientale dove non si escludono brevi nevicate a quote molto basse. Che cosa ci aspetta invece per le giornate di domani sabato 12 e domenica 13 gennaio? Per domani sabato 12 gennaio l'afflusso di aria fredda andrà attenuandosi consentendo una maggiore stabilità con cielo che si presenterà poco nuvoloso ovunque e con temperature massime in lieve ripresa. Molto freddo invece durante la notte e al primo mattino con estese gelate specie nelle aree più interne della regione. Venti inizialmente moderati da nord-est con tendenza a diminuire di intensità nel corso del pomeriggio sera. Mare da mosso a poco mosso. Domenica 13 l'inserimento di un nuovo modesto vortice depressionario sul tirreno determinerà condizioni di moderata instabilità con cielo prevalentemente nuvoloso ovunque, possibilità di deboli precipitazioni specie sul settore occidentale con deboli nevicate in montagna al di sopra dei mille metri. Le temperature subiranno un lieve aumento specie nei valori minimi. Venti deboli in mediamente occidentali e mare mosso. E sulla tendenza della prossima settimana invece cosa ci puoi dire? Lunedì ancora condizioni di moderata instabilità con possibilità di residui piovaschi. La tendenza però è per un generale miglioramento. Miglioramento che si paleserà nelle giornate di martedì 15 e mercoledì 16, anche se potrebbe trattarsi solo di una breve pausa, poiché sul finire della prossima settimana, mi riferisco al 18-20 gennaio, potrebbe concretizzarsi un nuovo peggioramento che, a giudicare dalle ultime elaborazioni numeriche, potrebbe segnare l'inizio di un periodo durante il quale non si escludono forti ondate di freddo. Un mese di gennaio dunque che proseguirebbe sotto il segno dell'instabilità con temperature spesso al di sotto della media, una condizione meteorologica che molti faticano ad accettare in virtù dell'amitezza che ha caratterizzato gli ultimi inverni. Termino qui ricordando ai telespettatori di seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteosette.it